In arrivo 245 nuovi professionisti. La direzione dell'Asla Toscana Sud-Est ha infatti deliberato il potenziamento del personale infermieristico, tecnico e tecnico-sanitario ed ha provveduto ad adottare importanti misure relative all'incremento dell'organico. Queste assunzioni non sono misure emergenziali dovute alla gestione del coronavirus, ha dichiarato il direttore generale Antonio Durso. Il capitale umano e professionale è una delle scelte strategiche fatte dalla direzione. È certo però che in questa fase poter disporre di personale per l'assistenza e la cura sia una delle migliori risposte per fronteggiare l'emergenza. Sono infatti 212 gli infermieri che verranno assunti tramite l'utilizzo delle graduatorie di concorso disponibili e che potenzieranno gli organici delle strutture dell'Asla Toscana Sud-Est. Sono poi 3 i tecnici sanitari di laboratorio biomedico assunti a tempo determinato per 6 mesi e che daranno supporto alle microbiologie dei laboratori di Arezzo e Grosseto. Queste strutture infatti dovranno garantire il nuovo orario di 12 ore 7 giorni su 7. L'Asla Toscana Sud-Est è inoltre pronta al reperimento di ulteriori professionisti, nel caso in cui si verificassero particolari esigenze dovute all'infezione di coronavirus. E arriva anche il plauso da parte della funzione pubblica della CGL dell'area vasta di Arezzo Siene Grosseto che in una nota ha espresso soddisfazione per la scelta di ricorrere ad assunzioni a tempo indeterminato che sono proiettate a dare risposte che vanno oltre la fase di emergenza dettata dal coronavirus. A chiedere un incremento dell'organico nelle ultime ore era stato anche il NURSID, il sindacato degli infermieri. Sarà necessario potenziare quelli che sono gli organici attuali perché le tende ad Arezzo, a Notto, a tutti i presidi della Toscana, soprattutto della Toscana Sud-Est e del Valdarno richiederanno sicuramente almeno un turno in più per poter garantire nelle 24 ore il cosiddetto pretriare.